In tempi di coronavirus sono cambiate le abitudini anche in provincia di Foggia. In questa famiglia come è cambiata la vita? È cambiata molto, esco soltanto io come capofamiglia, vado a lavorare e poi passiamo tutta la giornata dentro casa. Sto scoprendo nuove forme di sensibilità, anche perché facciamo molta pasta fatta in casa. Mi sono insegnato a fare pure le orecchiette in questo periodo. Purtroppo dobbiamo arrangiarci in questa maniera, perché come ha detto Conte, stiamo lontani oggi per essere più vicini domani, per abbracciarci domani. Ai vostri figli permettete di uscire? No, assolutamente. Stanno dentro casa e devono rimanere dentro casa. Rimangono insieme con noi e non escono nessuno. Dovrebbero fare tutti quanti in questa maniera, non devono uscire nessuno. C'è paura? È abbastanza, attualmente sì. Ma di più perché abbiamo i nostri genitori anziani, soprattutto loro, che cerchiamo di evitarli in questo periodo. Aspetta a restare in casa, è dura, vero? Eh, esatto. Io resto a casa, di solito gioco alla Playstation con gli amici, chatto su WhatsApp, guardo YouTube, a volte gioco con la mia sorellina, faccio la didattica a distanza a scuola, facendo i compiti a casa. E questo dobbiamo fare, non esco, perché per paura del contagio. E questo facciamo.